Bella ragazzi, io sono Martex, lui è Joe e lei è Chiara Benvenutissimi sul primo video di Brawl Stars sul canale Ragazzi miei, in tantissimi mi avete domandato Quando apri i 100 Star Drop? E io ero lì, ma che cosa sono questi 100 Star Drop? Che cosa dobbiamo fare? Martex, ma non giochi a Brawl Stars? In realtà sì ragazzi, non giocavo da tantissimo tempo Gioca assieme a Joe e Chiara Ogni tanto la domenica quando vengono a trovarmi Ma giusto così una partita, due partite in trio A raffagemme, qualcosina così Ma vi giuro, non giocavo a tale gioco dal 2020 circa Quindi questi quattro login che abbiamo fatto In realtà dobbiamo fare anche il quarto oggi Li ho fatti forse nel giro di un mesetto Quindi niente di che E adesso assieme a loro, assieme a voi Vado ad aprire questo regalozzo Mi raccomando però prima di cominciare Cosa molto importante Un bel pollicione lì in su Iscrivetevi al canale E condividete il primo video di Brawl Stars Qui con Martex, Joe e Chiara Assieme a tutti i vostri amici Clicchiamo assieme, vai Uno, due, tre, vai Primo brawler Mitico È mitico Ma 4 su 23 che cosa significa? Che ne ho 4 Ne ho 4 mitici su 23 Ho 4 mitici Aspetta posso fare uno screen? Loro sono esperti ragazzi Adesso mi insegnerete A fare un pochettino di cose Vediamo qui Che cosa abbiamo qui? Tre premi star Cinque premi Oh mio dio Io direi di partire da qui Però Mi direste che cosa sono questi star drop? Allora I star drop sono tipo delle stelle Ok Che ci sono diversi colori Raro Super raro Ok Quindi sono dei premi Mitico e leggendario Ok va bene Sono dei premi che vanno a seconda della rarità Ed è tutto casuale Va bene Tipo Se è mitico Leggendario Puoi trovare dei brawler Un giorno Un giorno e 15 ore Poi abbiamo 100 premi star Ma sono tutti di fila questi Io direi di partire da questo Che dite? Eh sì Andiamo? Vai Vai Chiara vai Vai Epico Oh e ora? Eh ti da tipo Gelindo sbloccato Ma è un emoji quella Che cos'è? Un emoji Sì sì Vado con questo? Quindi sono 4 drop in questo caso Vai È raro Vabbè stiamo raccogliendo monete Sì Vai 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 Involontariamente ha cliccato sulla Aspettate Aspettate a cliccare che ora abbiamo i 100 Eh Ok xp Vai Aspetta Vai Epico Epico Oh Mitico E ora? Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Bibi la ricordo Allora quando giocavo a Brawl Ragazzi Bibi era già presente I golosoni Ah quindi ho beccato tipo lo stile così I golosoni Bello Allora per il momento stiamo andando bene Joe Chiara stiamo andando bene secondo te? Eh boh Come boh? Fermi 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 Allora Wait 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 Joe ha appena cliccato sui 100 star drop Adesso Che cosa accade? Dobbiamo cliccare noi di conseguenza 100 volte sullo schermo? 100 volte? 100 volte Allora Comincia Chiara vai Epico Vai Ma 100 volte così seriamente? Sì Davvero? Epico Ok Ma io non clicco? Allora Non clicco io scusate vai Vado io Vai il martexone del vostro corazón Allora Mannaggia Ma può cadere in qualsiasi momento Epico Non lo so È mitico Con il mignolo Con il mignolo vai Vai epico Tutto randomico mi sto dicendo Vado io Sì Epico Va bene Ok Ma mi spiegate come mai è tutto ciò gratuito in gioco? Boh Che è successo? Ragazzi perché hanno dato questi star drop? Vai Vai Loro sono esperti magari nei commenti mi sapranno aiutare Raro Io sono sforzionato Mitico 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 Bombardino Bello bombardino Quante volte l'ho utilizzato? Che? Quante volte l'ho utilizzato? Fa vedere un attimino quando esce un mitico È giusto un attimino Godiamocelo 5 secondini eh Hanno fretta raga Hanno fretta Vai Adesso lo becco io un mitico Chi c'è che l'ha beccato un mitico? Io Vai Raddoppio xp Adesso quanti punti xp abbiamo maggiorati? Scusate Ma non servono niente Non so che cosa c'è Ma infatti alla fine non c'è un livello su brawler Ho sbaglio È livello 30 Questo questo faccio io vado Non mi ricordo Forse 30 livelli Vai E invece con quei punti Posso aumentare i brawler Oltre alle monete Ho sbaglio Allora Questi Ti potenziano i brawler Leggendario Però ho visto pure mitico Sbaglio Aspettate 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 Ah ok Vai Vado Vai Vai Avrei preferito un mitico sinceramente giunto a sto punto eh Ok Ora tutto È divertente comunque sto star drop Secondo me ci sono alcuni ragazzi che non lo so Loggano boom In due secondi tutto e cento Via Epico Epico Quanti ne mancano scusate Stiamo qui altri 30 minuti Dai ad aprire i bauli Eccolo Vai No E dai però ragazzi Siamo sfortuneti Vogliamo i brawler Vogliamo i brawler No Ci vuole C'è bisogno del tocco magico eh Devo andare io Sapete qual è il tocco magico? Con la fronte La fronte Se vai di fronte Se vai di fronte Vai Aspettate Devi spostare i capelli Non serve a niente Mannaggia Aspetta Aspetta Qual è il piano forte? Eh ma non ti vedo Vado io dai Allora Eccolo Tocco magico del martexone E adesso mi esce tipo i punti Vai Vai Mitico Let's go Let's go Ma che cosa sono? Ma che cosa Oh Chiara Li puoi far vedere un attimino Dannazione Dannazione Li puoi far vedere un attimino i brawler Che troviamo Quelli mitici Grazie Allora Ma dopo ci dà un resoconto Di tutto quello che abbiamo trovato? Sì Allora No 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 Mannaggia Tipo una sorta di Non lo so Una Una sfilzo di item Che abbiamo ricevuto Vai 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 Solo tu li stai aprendo Vai Bling Oh i primi 50 bling Bling Vai Ok Superare Superare Ma secondo me è un altro mitico Lo droppa? Eh Può essere Qual è stato il vostro record di mitici? Io Io C'è proprio la prima volta quando hanno messo I I star drop Nello shop Sì Eh È il primo colpo mitico Boom Mitico Let's go Epico All right Allora prima di chiudere qualcosina dovrebbe Eccolo Vabbè ma leggendario Vabbè ma leggendario potrebbe essere ancora meglio Perché va a seconda della rarità Insieme 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 Uno due tre Let's go Let's go Semino Ferma Ferma lì Ferma lì Bello Bello Nuova skin Semino principe di rubino C'era una volta Terzo brawler Quarto brawler Quarto brawler No Sì Bibi No almeno tre li abbiamo beccati Edgar Semino Let's go E poi alla fine ti dà un emoji Del brawler che hai trovato Dobbiamo dire che non stiamo andando affatto male Molto Molto bene Vado io? Grazie Chiara Grazie Vada 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 Bellissimo Che drop ragazzi Oh fatemi sapere qua sotto tra i commenti invece come è andata a voi il giro eh Che cosa vi ha droppato nei cento star drop Ah Eeeh Mi sono scordato una cosa Vado io vai Tu nel mentre commenta vai Se trovate tutti i rari Mhm Nei cento star drop vi daranno cento star drop leggendari Tutti di fila leggendari Sì tutti di fila leggendari Aspetta non ho capito come funziona questa cosa se trovano tutti gli star drop rari Rari Ok quindi come in questo caso No rari così Ah tutti verdi Eeeh Quindi una sorta di premio ok 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 Vai Perché se no non è giusto eh Per consolarli dici no Eh meno Bellissimo Eh ma qui ci vuole tanta fortuna però eh In quel caso sfortuna Epico Epico non è male Stiamo facendo anche un bel po' di monetine eh Vai Vai Io non Vai Io ho perso il conto a quanto stiamo Eh non ci Matura davvero tanto eh Eh ma sto continuando io Mi state facendo cliccare Vai vai Chiara vai Eh c'è un altro mitico O leggendario Eccolo Ma che cosa sono Un maghetto No Mannaggia 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 500 manete Ai 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 Vai Sì Vado Vai Va bene va bene Ok Epico Secondo me abbiamo finito Ancora Vado io Sì Vado Vai Chiara vai A quante molete stiamo Boh Dai un altro mitico dai Voglio vedere quel rossore Bello Oppure un leggendario Vai 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 No raro Leggendario si è ancora meglio Però vi giuro No mitico è ancora meglio No leggendario È meglio del mitico È meglio del mitico Sì Infatti mi avete fatto scoprire questa cosa Assieme ora Proprio nel momento in cui stiamo registrando Io non lo sapevo ragazzi Vai Vai Chiara vai Devi cliccare Ma sono rari Eh vedi Lali Adesso ci regala altri 100 star troppo leggendari Ci sta dando solo raro È super rari Abbiamo finito È terminato No No Oh mio dio Eccolo Ma che cos'è Ma che cosa sto portando il dito magico Il dito magico Mitico Insieme uno due Crediti Crediti No Largo Vai vai Tre Vai dio È finito Quanto durano Quanto durano Eh sono 100 Eh ho capito Ma stiamo tipo Ne stiamo aprendo mille Vai 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 Mitico Let's go Let's go Chi è chi è chi è È un cannone Tiratrice scelta Io ce l'ho Bonne è un agglomerato di energie Distruttivo senza controllo Con un sogno ben preciso Essere sparata da col cannone direttamente sulla luna Bello Bello Per inizio ma prendo Mamma mia Mitico È troppa euforia però Troppa 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 euforia Lo sto facendo Com'è Vai No Ecco Hai cliccato E' finito tutto Allora Abbiamo 4973 monete 50 blink Blink Come si chiamano? Blink I blink Tu puoi farli Ah questo è gratuito Sì Vai Primo ricordo del passo Ci sono queste notizie qui Vai vediamo che cosa sono queste notizie Messaggi Ritira Ahà Ritira 24 giorni Vedi quanto ci sta scritto 98 giorni 345 giorni fa Vai Ragazzi io ve l'ho detto Non nasce da poco da troppo tempo Fatemi vedere da quanto 900 giorni 23 Io mi sto mangiando i capelli di Chiara Alment Buoni Un altro ne abbiamo Vai Uno star drop Oh Oh raro Ah quindi ci sono altri star drop nel passo Sì Tutte le stelline qui E poi L'ultimo livello Leggendario Ragazzi Per il momento Ci fermiamo qui Fatemi sapere qua sotto nei commenti Come sono andati i vostri star drop E quanti brawler Mitici Leggendari Vi siete portati all'interno Dell'armadietto Noi ci becchiamo in un prossimo video Sempre con Brawl Stars Assieme a Joe E Chiara Ma questa volta In qualche modalità Quindi ci vedrete giocare Assieme Una bella Terzetto Tra nipote Eh Nipote Nipote Tra zio E nipoti Quindi Siamo Seconda ella